La Russia, qualcuno ventila l'idea che ci possa essere stata la Russia, qualcuno addirittura parla di Wagner come appoggio di azione di questa terribile strage, lei ci crede? No, sinceramente no, io non sono particolarmente tenero con la Russia, ma non penso che la Russia avesse né questo interesse né questa capacità, la Russia ha trattato il rapporto con Israele e Israele ha trattato il rapporto con la Russia con estrema cautela, Israele ha condannato fermissimamente l'invasione dell'Ucraina ma non ha mai fornito armi all'Ucraina per una ragione semplicissima, perché la Russia è presente in Siria e sa Israele che la Siria è un quadrante strategico e poi c'è la presenza degli ebrei russi che sono una componente molto importante nel popolo di Israele, la Russia ne trae un vantaggio indiretto senza muoversi, basta che Putin rimanga fermo, è la destabilizzazione del mondo, è la distrazione della comunità internazionale dalla guerra, è la destabilizzazione, quello è un fronte secondario della guerra simmetrica, più il mondo si destabilizza e più Putin ne trae vantaggio.